...interventi programmati e chiederei anche a loro il rispetto dei tempi, diciamo professore Alberto Lugarelli. Grazie Presidente, il mio intervento è accettato, il mio successo poi è entrato in commissione, non so, in settimana, quindi con piacere vedo che scompare l'ipotesi, l'altro evocato anche se lo stavamo prima, che era l'ipotesi in cui il sindaco, il metropolitano, fosse il sindaco del comune, ma pure il consiglio formato da 15 di comuni con più di 15.000 abitanti, che proprio, diciamo così, della loro presentatività non c'era, quindi la sua ipotesi che sembra scompare l'ipotesi in cui il consiglio metropolitano, appunto, non fosse anche rappresentativo dei comuni al di sotto i 15.000 abitanti, che poneva ovviamente tutta una serie di diversità e dubbi in relazionalità, quindi nell'articolo 3, una serie di dubbi in merito alla compatibilità con l'articolo 133 e con l'articolo 5. questa ipotesi, questa ipotesi di forma di governo, che è un simile, appunto, scompare, rimangono sostanzialmente due modelli, due ipotesi, anche se poi con una serie di variabili come sono state, che è stata prima evidenziata. Diciamo l'ipotesi in cui, che poi è l'ipotesi prevalente, diciamo in cui le modelle in cui il sindaco, appunto, coincide con il sindaco del Comune Campuolo, ed il Consiglio, appunto, si è eletto da sindaci e consiglieri di tutti i comuni in parte della città metropolitana. Qui, per me, per me, tengo a che consentirà che, per me, il tema che mi sembra più interessante è il rapporto tra governabilità e rappresentatività. In merito al Consiglio della governabilità e, in particolare, quindi, al rapporto che dovrà intercorrere tra il sindaco della città metropolitana, quale sindaco, il Comune Campuolo, provincia e il Consiglio, ovviamente potrebbe verificarsi la mancata coincidenza tra appartenenza politica del sindaco mitropolitano e appartenenza politica del Comune Campuolo.